Lecce-Bologna termina con un pareggio 1-1, il Lecce gioca in casa e il Bologna è fuori casa, è stata una partita vincente anche abbastanza buona da vedere tuttavia il pareggio arriva per entrambe, ma per il Lecce a segnare è stato su rigore Roberto Piccoli che la mette dentro, pensate, la parte totalmente finale della gara per il Bologna a metterla dentro è stato Ciaralampos-Lico Giannis che nel secondo tempo la mette dentro, quindi diciamo che la partita per il Lecce è stata per il primo tempo e per buona parte del secondo senza gola tranne l'ultimo che è arrivato l'unico che è arrivato grazie a Roberto Piccoli Nel Bologna per il Bologna ricorda il secondo tempo, le statistiche sono tutte a fuori del Bologna rispetto a Lecce quindi sembra che statisticamente parlando il Bologna abbia giurato meglio rispetto a Lecce iscrivetevi, seguitevi, commentate, ciao